Un 23enne siciliano di Vittoria in provincia di Ragusa è stato arrestato e posto ai domiciliari su disposizione del GIP del Tribunale di Palmi per lesioni personali, minacce, stalking e diffamazione nei confronti dell'ex compagno. Si appostava sotto casa della vittima fino a postare sui social video in cui annunciava l'intenzione di ucciderlo e manifestando la stessa volontà anche nelle telefonate fatte ai carabinieri. La denuncia è arrivata dall'ex compagno che ha riferito gli svariati episodi ai carabinieri della stazione di Palmi raccontando che il 23enne ha pubblicato sui social un video in cui lui stesso diceva di essere in procinto di recarsi a Palmi per ucciderlo. Video preceduto da svariate telefonate del 23enne fatte ai carabinieri di Palmi in cui manifestava i suoi intenti sostenendo anche di essersi procurato un'arma. Quest'ultima circostanza non è mai stata riscontrata dai militari che in ogni caso si sono sempre adoperati per garantire la sicurezza del minacciato sia fisicamente che attraverso l'interessamento della Procura della Repubblica.